Un programma ricco perché abbiamo 11 eventi, sottolineo a ingresso gratuito perché sono tutti liberi e ad accesso appunto per tutta la cittadinanza del territorio di Pesaro Urbino perché è un festival provinciale, siamo con diversi eventi a Pesaro, infatti apriamo a Pesaro il 3 maggio al Teatro Sperimentale, questa apertura del festival con uno spettacolo teatrale che da tanto tempo volevamo portare nella nostra città, tutto quello che volevo. Per poi proseguire a Urbino e Fano con altri appuntamenti e sempre a Pesaro nella giornata di venerdì con mostre, concerti, conferenze, tante tematiche affrontate tutte con un trade union che è quello appunto del contrasto alla violenza di genere tramite la sensibilizzazione verso tutta la cittadinanza. Quest'anno abbiamo scelto di trattare il tema della violenza di genere attraverso la figura delle donne, delle donne che nella storia, nel presente e speriamo nel futuro possono fare la differenza. Esplorando il passato, vivendo il presente, quello che ci arriva è che tutte le donne di cui noi parleremo nei quattro giorni di festival sono state toccate in qualche modo da una forma di violenza di genere. Nel futuro vogliamo che questo non debba più accadere e questo è l'impegno che Percorso Donna prende con il Festival Percorsi anche quest'anno. L'evento è patrocinato dalle principali istituzioni della nostra provincia, quindi ringraziamo la provincia di Pesaro Urbino, il comune di Pesaro, di Fano e di Urbino, la commissione pari opportunità della regione Marche che anche quest'anno appunto ci ha dato il suo sostegno, il suo patrocinio e un'importante novità quella dell'alto patronato, quindi il patronage del Parlamento Europeo. Questo a richiamare insomma il valore che viene dato da tutte le istituzioni alle tematiche da noi affrontate. Ringraziamo inoltre tutti, veramente tutti i nostri sostenitori che sono tantissimi e li troverete tutti nel programma sul sito percorsodonna.com e sui nostri canali social.